La mia vita è la mia vita. Come fate? Questa è la mano di un lavoratore, vedete? Ora andatevele. E se preferissi restare? Tento a chi frebenti. Come puoi associare il tuo nome a quello di Max? I borghesi amano parlare della libertà, ma è della loro libertà che parlano, non della vostra. Lo provate sulla vostra pelle ogni giorno. Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds, impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini. È quello che fa la società. Voi non siete la società. Il lavoro li uccide! La libertà, l'uguaglianza, la sicurezza dei cittadini, a loro questo non interessa. Queste sono astrazioni. Sono dei diretti. Viva l'anarchia! Vedo che amate la discussione o per meglio dire lo scontro. Io direi la dialettica. Alle menti che pensano davvero e agli spiriti liberi. Questa notte non abbiamo solo bevuto, scriveremo un libro insieme. Dovevi consegnare il programma una settimana fa. Io ho una famiglia adesso! Non c'è felicità senza rivolta. E spero di vedere il vecchio mondo crollare presto. Noi tre insieme faremo a pezzi il vecchio mondo. Forse dovremmo essere un po' più di tre. La Lega ha bisogno di uomini, non di cervelloni che dicano loro cosa fare e pensare. Sì, ma volete diffondere le vostre idee? Metteteci alla prova! Noi siamo invincibili! Fermatevi!